voci.fm il sito delle voci. Oggi vi racconto come ci si prepara per un'audizione sia per musical che per un concorso. Vi darò delle brevi linee guida. Intanto non andate a fare audizioni che non si reputino interessanti o idonee alle proprie caratteristiche sia vocali che fisiche. A meno che non si voglia per forza fare esperienza o come si dice mi faccio conoscere dalla produzione. Ma se potete evitate di perdere tempo e di far perdere tempo. Intanto preparare una memoria perfetta di un monologo che deve essere non più di due o tre minuti e che spesso sarà richiesta già dalla produzione. Se ne trovano molti online da preparare e ricordarsi di articolare e di esporre la voce con una giusta respirazione e con i giusti risuonatori. Importante è l'addizione. Non sottovalutate la provenienza regionale. Quindi cercate di disimparare certi dialetti e parlare in un italiano più corretto. Terzo punto preparare la memoria di uno o più brani cantati sempre attraverso anche la lettura di uno spartito. Oggi sempre di più soprattutto nell'audizione di un musical si richiede la lettura di uno spartito e l'accompagnamento tramite il pianista. Ricordatevi che oggi si canta sempre meno in audizione con il microfono ma proprio con la voce nuda e cruda. Quarto punto l'atteggiamento per esempio nell'entrare a un'audizione presentarsi smarriti, confusi, senza un buon portamento non favorirà un imprinting diciamo positivo. Quindi siate fieri di voi stessi e presentatevi in maniera anche abbastanza forte. Scaldarsi la voce è necessario anche per un'audizione. Vi consiglio cinque minuti di humming o di sirena per diciamo fare in modo che la voce sia calda senza dover per forza fare dei grandi vocalizi. Sesto punto studiare il repertorio da portare con costanza tutti i giorni ma lasciate che ci siano delle pause di defaticamento tra uno studio e l'altro per non arrivare pieni di nozioni e magari troppo emotivi. Settimo punto non domandate agli altri candidati che cosa porti, come ti scalli, come stai studiando. Siate un pochino distaccati e concentrati solo su voi stessi. Ottavo punto nelle audizioni e nei concorsi ricordarsi di non far alzare troppo il volume della voce per sentirsi tantissimo. Ricordarsi che la base deve essere leggermente più alta del volume della vostra voce. È un piccolo trucco. Nono punto se si ha la possibilità di accompagnarsi con uno strumento dal vivo e si è abili nella gestione strumento voce. Consiglio questo durante per esempio un'esibizione perché può essere un valore aggiunto per una giuria che vi ascolta. Dieci non imitate gli altri durante la propria performance. Cercate uno stile originale. Undici interessante può essere la soluzione di cantare brani scritti da noi stessi, quindi essere cantautori piuttosto che interpreti di cover. E un altro consiglio, se dovete proprio portare una cover, portate una cover del sesso opposto, cioè di un artista che non sia per forza femminile se siate donne e viceversa maschile se siate uomini. Ultimo suggerimento, il look. Deve essere più consono possibile alla vostra personalità, sia nelle audizioni di musical che in un concorso canoro. Attenzione però a non esagerare in eccentricità fine a se stessa. Se sapete portare i tacchi, portateli pure, altrimenti andate più comodi possibili anche per quanto riguarda la postura. Ultimo punto, dobbiamo guardare la giuria o no? Io vi consiglio sempre di catturare l'attenzione della giuria con la naturalezza. Non andate a cercare un'approvazione. Potete anche andare a mirare dritti agli occhi del giurato, ma deve essere fatto con maestria o con estrema naturalezza. Il mio consiglio, guardate sempre un po' più avanti, sopra le teste dei giurati, come a seguire un proprio film nella vostra testa. Avere una visione estranea a tutti e a tutto può essere una cosa vincente. Occhiolini e moine poco graditi. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play. Grazie a tutti.